Ben trovati, abbiamo più volte detto che questa campagna elettorale non ha sbalordito per le azioni e le dichiarazioni belle per un futuro Rosio e del Paese, votando in sette regioni e tanto più della Puglia e per la Puglia e per il Salento. Anzi continua a essere secondo il mio modo di vedere una squallida corsa per eleggere i futuri presidenti delle regioni e quindi i consiglieri regionali all'interno delle assisi sui sette territori italiani chiamati al voto. L'ultima vergogna, l'ultima ipocrisia della nostra nazione è la lista degli impresentabili. Ma cosa significa? Perché fare questa lista degli impresentabili durante una campagna elettorale? Come mai si dovevano conoscere i nomi di questi già la scorsa settimana e poi pian piano i rinvii, poi la fuga di notizie con dei nomi che successivamente spariscono ieri e ancora una volta quelli di ieri sono legati ad altre fughe di notizie e poi si rinvia il tutto a venerdì, dando per certo che sabato c'è il silenzio per il rispetto delle scelte degli elettori e poi domenica il giorno del voto. Rosi Bindi dice che tutti i componenti della commissione antimafia devono essere considerati responsabili della fuga di notizie. Allora si dimettesse ella per prima, visto che non ha controllato la propria commissione. E poi come mai alcuni nomi vengono tutta un tratto meno e vengono meno qualche ora dopo le dichiarazioni di alcuni leader di partito che dicono delle nostre organizzazioni nessuno sarà identificato dalla commissione antimafia come impresentabili. Che strane coincidenze. Ma a chi volete prendere in giro? Tutti quanti da Renzi a Berlusconi per fare i nomi in parcondicio, passando per Vendola, altro leader nazionale della sinistra, arrivando a Meloni. Ma chi volete prendere in giro? Se le liste le avete composte voi con i vostri riferimenti sul territorio, è possibile che alcuno potesse sapere se un candidato X o Y aveva delle pendenze giudiziarie? La prova, la prova scontata è il candidato alle regionali come Presidente della Campania, De Luca, che è noto perché le polemiche e le vicende giudiziarie hanno avuto una ribalta nazionale, fermo restando che sono con De Luca, anche perché tanto non appartiene a questa regione che è chiamata al voto, per cui non criminalizzo De Luca, criminalizzo l'ipocrisia, tanto è vero che consentono la sua candidatura per paura che questo si presenti comunque a prescindere solo e spaccasse eventualmente 30 giorni fa o in occasione della presentazione delle liste il centro-sinistra. Per cui è tutta una ipocrisia. In Puglia tutti i leader e i riferimenti da Adriana Polibortone a Michele Emiliano a Raffaele Fitto sono certo conoscessero già in modo chiaro e netto quelli che potrebbero essere identificati come impresentabili. È rifiuto il moralismo anche di Michele Emiliano che chiede oggi a qualcuno di cui si è letto il nome come ipotetico e impresentabile oggi di fare un passo indietro. Un po' come successa nelle scorse regionali quando Mazzarano, quando scoppia il caso Mazzarano e lui dice mi ritiro dalla competizione elettorale, invece viene votato e serenamente ha continuato a rappresentare il popolo. Perché votato? Però è ipocrita dire mi ritiro così come oggi è ipocrita chiedere un passo indietro, ma per me gli impresentabili non sono soltanto coloro che sino all'ultimo livello di giudizio devono essere considerati innocenti. Per me i veri impresentabili sono coloro che per interessi in tutti gli schieramenti hanno cambiato casacca o sono stati candidati in liste per pensare e sperare in una più facile elezione. Quelli sono veramente impresentabili perché giocano con l'elettore, col militante e con il simpatizzante e tutte le operazioni sono avallate da tutti coloro che oggi dicono di non sapere e fan finta di chiedere di andare via. A domani.